Benvenuti e bentornati su ABC, io sono Andrea e questo è il mio canale e oggi parliamo di un prodotto di medicina estetica, di una linea che io tratto e che amo molto perché è veramente fatta bene, quindi non sono di parte, solamente di parte, ma perché è una linea veramente tecnica e io adoro le linee tecniche, non mi piacciono le linee blande tutte risonanti solo di pubblicità, di marketing, di pieni di silicone e quant'altro. E parliamo del rebuilding di Mike Lee, che è un siero antiossidante e idrolistante. I rebuilding, quali sono le caratteristiche del rebuilding? Il Trilogin KJF, che è il loro brevetto tensore per il viso e soprattutto il loro brevetto per lo stimolo endogeno del collagene. L'L-carnosina, che si utilizza anche negli sportivi, infatti il mio collega ha detto il reparto sport, le parla sempre e gli piace tantissimo il rebuilding perché ha l'L-carnosina e si asciuga benissimo. L'acido lipoico è il coenzima Q10 stabile, quindi vero per la pelle come antiossidante, che è uno degli antiossidanti più potenti che abbiamo, tra i vari antiossidanti, che viene spesso utilizzato anche in linee cosmetiche low cost, ma che in realtà se non è sviluppato in un determinato modo non fa assolutamente nulla alla pelle, ma proprio niente. E' solo lì come marketing, ok? E qui non commento, perché c'è una pubblicità in giro di questo Q10. Ora, questo tipo di siero è un siero proprio gel, vi faccio vedere, eccolo qua, è un siero gel marroncino, molto potente e abbastanza liquido, vedete? Non è un gel che fa il filo, molto molto potente, ha una profumazione che a non tutti potrebbe piacere, questo ve lo dico, perché è pungente. Ah, perché è la profumazione degli attivi di questo siero, quindi è appunto abbastanza pungente. C'è chi la ama tantissimo come profumazione e c'è chi la odia totalmente, questo ve lo devo dire, quindi il mio consiglio è chiedete un campione, sentitela un attimo, oppure se conoscete appunto una farmacia che tratta Mike Lee, chiedete il tester, sentite un attimo il profumo, perché ha una profumazione particolare, derivata dagli attivi sempre, quindi non una profumazione inserita, è una profumazione proprio degli attivi. Dicono, non a tutti, fa impazzire. Come tipo di siero, un siero molto tecnico, piace tanto, a chi piace poi la profumazione, lo provo, piace tantissimo. Il mio collega ha detto lo sport, che è un uomo, lo adora, perché è un siero che si asciuga subito, lo spalmi, asciutto, non lascia residui, non lascia niente, comunque dà un velo di idratazione. Quindi sulle pelli normali, miste, è perfetto, anche se non volete mettere una crema, cosa che vi sconsiglio, va sempre messa una cremina, anche leggerissima, sempre messa, però per chi non vuole mettere una crema, come il mio collega, questo va benissimo anche da solo. Viso, collo, ovviamente sempre, dà questo effetto turgore, questo effetto di pelle, insomma, liscissima, costa tanto. Sono 50 ml e costa 89 euro al netto di promozioni. Li vale tutti? Sì, 100%, li vale tutti quanti, ve lo consiglio ad occhi chiusi, se potete spendere 89 euro, questo ve lo consiglio, ma proprio subito, immediatamente, senza pensarci. Se non potete spendere tutti questi soldi, volendo, ci sono altri prodotti affini, non a queste concentrazioni, ma che però possono dare un risultato comunque buono, o comunque una beauty routine fatta bene, anche con meno soldi, si può sempre fare, questo sappiatelo. Però se potete spendere 89 euro e vi va di spendere 89 euro per un siero, fatelo, anche perché essendo un prodotto concentrato non dura poco, perché vanno veramente solo applicazioni qui, qui, qui e qui, quattro applicazioni, e quindi vi dura diversi mesi il prodotto, non dura pochissimo, non dura certo solo un mese, assolutamente no, perché non va messo tantissimo, perché va sprecato, altrimenti, perché la pelle comunque ha un grado di assorbibilità limitato. Quindi, per me è un 9, questo siero, un 9 pienissimo, assolutamente, provatelo, se avete la pelle particolarmente sensibile, perché ha degli attivi potenti, quindi dovete vedere se sulla vostra pelle risulta, non vi fa un po' di irritazione, quindi provate sempre un campione se avete pelle sensibile o secca, come nel mio caso. E niente, questo è quanto, ve lo faccio rivedere, ottimo, ottimo, ottimo. Vi ringrazio per aver visto questo video, iscrivetevi al canale o ai social se vi piace, come spiego le cose, se volete essere aggiornati, io cerco sempre di provare un sacco di prodotti, anche se i prodotti sul mercato ne sono milioni, quindi è difficilissimo provarli tutti, però insomma quelli che provo li recensisco, anche perché li compro in continuazione, come penso abbiate capito. Vi ricordo il mio motto, cioè che i miracoli non esistono, nemmeno le creme da 1000 euro fanno miracoli, nemmeno i chirurghi plastici fanno miracoli, però la costanza, con un buon protocollo, protocollo, protocollo fatto da professionisti, fa assolutamente miracoli, e il risultato si vede, anche non spendendo troppi soldi. Questo ve lo assicuro, perché ci lavoro tutti i giorni. Vi mando un grosso bacio, kisses!